Una rete di pusher che spacciava cocaina e hashish vicino a scuole e punti di ritrovo frequentati da giovani e ragazzini a Bagheria è stata scoperta e sbantellata dai carabinieri di Palermo. L'operazione Green Park, sviluppata sull'inchiesta del procuratore aggiunto De Francisci e del sostituto Auricchio, ha portato all'arresto di sei persone. Le indagini erano state avviate nel 2010, dopo le segnalazioni di insegnanti e alcuni genitori. Grazie poi alle intercettazioni telefoniche e all'uso di alcune telecamere sono stati documentati i passaggi di droga e svelato il linguaggio cifrato degli indagati, che parlavano delle dosi come pizze o spaghetti. Gli spacciatori si rifornivano a Palermo, dove è stato individuato e arrestato il grossista, per poi confezionare e spacciare le dosi a Bagheria, con un ricarico stimato dai carabinieri del 300%. Durante le indagini inoltre sono state arrestate in flagranza sette persone. Segnalate alla prefettura oltre 300 consumatori abituali di droga e sequestrate in tutto 200 grammi di cocaina e un chilo e mezzo di hashish.